Pier Paolo Pasolini Nuove prospettive storiche La Chiesa è inutile al potere Riferendosi al mio intervento sulla situazione attuale e reale della Chiesa, L'osservatore romano, in un articolo di violenta reazione, scrive fra l'altro Limitiamoci a osservare quest'antiquata frase, che contiene tutto lo spirito e in senso di cultura dell'articolo clericale, Ciò che prima di tutto vi si nota è un'idea che a una persona normale sembra subito abberrante, l'idea cioè che qualcuno, per scrivere qualcosa, debba possedere autorevolezza. Io non capisco sinceramente come possa venire in mente una cosa simile. Ho sempre pensato, come qualsiasi persona normale, che dietro a chi scrive ci debba essere necessità di scrivere, libertà, autenticità, rischio. Pensare che ci debba essere qualcosa di sociale e di ufficiale che fissi l'autorevolezza di qualcuno è un pensiero, appunto, abberrante, dovuto evidentemente alla deformazione di chi non sappia più concepire verità al di fuori dell'autorità. Io non ho alle mie spalle nessuna autorevolezza, se non quella che mi proviene paradossalmente dal non averla, e dal non averla voluta, dall'essermi messo in condizione di non aver niente da perdere, e quindi di non essere fedele a nessun patto che non sia quello con un lettore che io considero del resto degno di ogni più scandalosa ricerca. Ma supponiamo, per ipotesi assurda, che una mia autorevolezza esista, malgrado me stesso, mettiamo, e decretata oggettivamente nel contesto culturale e nella vita pubblica italiana. In tal caso la proposizione vaticana è ancora più grave. Infatti essa mette sotto accusa non solo le cerchie culturali, entro cui io opero come scrittore, ma a questo punto anche le centinaia e migliaia, e in qualche caso, i milioni di italiani semplici, che decretano il successo delle mie opere cinematografiche. Insomma, sono colpevoli i critici che mi giudicano, e sono degli sciocchi gli spettatori che vanno a vedere i miei film. Tutto ciò è culturame. E culturame perché non è clerico fascista. Infatti, quando sull'osservatore romano si scrive che un film è di Enigmatico e riprovevole decadentismo. È inevitabile. Il senso di queste parole risulta lo stesso che per la sottocultura, che bruciava i libri e i quadri decadenti, in nome della morale sana. Anche lo scrivere corrosivo è uno stilema tipico di una trentina di anni fa, perché istituisce il confronto con una ipotetica salute e integrità della cultura ufficiale, fondata sull'autorità e sul potere. Infine, con l'accenno agli atteggiamenti eccentrici, siamo all'allusione personale. Ma su questo non replicherò. Cristo, del resto, non ha mai messo in condizione la pecora nera o smarrita di dover replicare. La storia della Chiesa è una storia di potere e di delitti di potere, ma quel che è ancora peggio è, almeno per quanto riguarda gli ultimi secoli, una storia di ignoranza. Nessuno potrebbe per esempio dimostrare che continuare a parlare oggi di San Tommaso, ignorando la cultura liberale, razionalistica e laica, prima, e poi la cultura marxista in politica e la cultura freudiana in psicologia, per tenermi a schemi primi e elementari, non sia un atto sottoculturale. L'ignoranza della Chiesa in questi ultimi due secoli è stata paradigmatica, soprattutto per l'Italia, e su essa che si è modellata l'ignoranza qualunquistica della borghesia italiana. Si tratta infatti di una ignoranza, la cui definizione culturale è una perfetta coesistenza di irrazionalismo, formalismo e pragmatismo. Le sentenze della Sagra Rota sono per esempio un enorme corpus di documenti che dimostrano l'arbitrarietà spiritualistica e formalistica da una parte, e dall'altra il tetropraticismo, che rasenta addirittura forme di fanatico biabiorismo, con cui la Chiesa guarda le cose del mondo. Gli aggiornamenti che parte del clero, anche vaticano, attentato e talvolta attuato, non fanno che confermare quanto ho detto. Infatti, tali aggiornamenti riguardano la tecnica e la sociologia. Ancora una volta la reale cultura è saltata. Ancora una volta sono gli strumenti del potere che appaiono significativi e decisivi. E' questa particolare cultura vaticana, come mancanza di reale cultura, che probabilmente ha impedito all'articolista dell'osservatore romano di capire ciò che io ho scritto sulla crisi della Chiesa, che non era affatto un attacco. Era invece quasi un atto di solidarietà, certo estremamente anomale e prematura, doveva, dovuta al fatto che, finalmente, la Chiesa mi appariva come sconfitta, e quindi finalmente libera da se stessa, cioè dal potere. In un articolo sulla stampa, Mario Soldati parla della risata di un gesuita dovuta alla richiesta se egli avesse un'automobile. In tale risata Soldati sente il primo accento, falso, di carattere pratico e tradizionalistico. No, non ce l'ho con la macchina. Non so più i tempi in cui i gesuiti possiedono una macchina. Ma sotto, nel fondo, nell'essenza di quella risata, Soldati sente una sincera, esaltante, resistibile felicità. La felicità di vedere finalmente rovesciati e rinnovati i rapporti della Chiesa col mondo, la felicità della sconfitta, la felicità del dover ricominciare tutto da capo, la liberazione dal potere. Nel pianto di Paolo VI, mi riferisco al suo storico discorso di fine estate a Castel Gandolfo, io ho sentito la stessa cosa, un primo accento di dolore e delusione, meritati per il declino di un grandioso apparato di potere, e un più sotterraneo accento di dolore sincero e profondo, cioè religioso, carico di possibilità future. Quali sono queste possibilità future? Prima di tutto la distinzione radicale tra Chiesa e Stato. Mi ha sempre stupito, anzi, per la verità profondamente indignato, l'interpretazione clericale della frase di Cristo «Dà a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio». Interpretazione in cui si era concentrata tutta l'ipocrisia e l'aberrazione che hanno caratterizzato la Chiesa contro-riformistica. Si è fatta passare, cioè per quanto ciò possa sembrare mostruoso, come moderata, cinica e realistica, una frase di Cristo che era, evidentemente, radicale, estremistica, perfettamente religiosa. Cristo, infatti, non poteva in alcun modo voler dire «Accontenta questo e quello, non cercar grane e politiche, concilia la praticità della vita sociale e l'assolutezza di quella religiosa, dà un colpo al cerchio e un alla botte, eccetera». Al contrario, Cristo, in assoluta coerenza con tutta la predicazione, non poteva che voler dire «Distingui nettamente tra Cesare e Dio, non confonderli, non farli coesistere qualunquisticamente con la scusa di potere servire meglio Dio, non conciliarli. Ricorda bene che il mio è, è disgiuntivo, crea due universi non comunicanti o, semmai, contrastanti, insomma, lo ripeto, inconciliabili». Cristo, ponendo questa dicotomia estremistica, spinge in vita all'opposizione perenne a Cesare, anche se magari non violenta, a differenza di quella degli Zeloti. La seconda novità religiosa che si prospetta per il futuro è la seguente. Fino a oggi la Chiesa è stata la Chiesa di un universo contadino, il quale ha tolto al cristianesimo il suo solo momento originale, rispetto a tutte le altre religioni, cioè Cristo. Nell'universo contadino, Cristo è stato assimilato a uno dei mille adoni o delle mille proserpi inesistenti, i quali ignoravano il tempo reale, cioè la storia. Il tempo degli dei agricoli simili a Cristo era un tempo sacro o liturgico, in cui valeva la ciclicità all'eterno ritorno. Il tempo della loro nascita, della loro azione, della loro morte, della loro discesa agli inferi e della loro resurrezione era un tempo paradigmatico, a cui periodicamente il tempo della vita, riattualizzandolo, si modellava. Al contrario, Cristo ha accettato il tempo unilaterale, cioè quella che noi chiamiamo storia. Egli ha rotto la struttura circolare delle vecchie religioni e ha parlato di un fine, non di un ritorno. Ma, ripeto, per due millenni il mondo contadino ha continuato ad assimilare Cristo ai suoi vecchi modelli mitici, ne ha fatto l'incarnazione di un principio assiologico attraverso cui dar senso al ciclo delle culture. La predicazione di Cristo non ha avuto molto peso, solo le elite veramente religiose della classe dominante hanno capito per secoli il vero senso di Cristo. Ma la Chiesa, che era la Chiesa ufficiale della classe dominante, ha sempre accettato l'equivoco. Essa non poteva esistere infatti al di fuori delle masse contadine. Ora, di colpo, la campagna ha cessato di essere religiosa, ma in compenso comincia a essere religiosa la città. Il cristianesimo da agricolo si fa urbano, caratteristica di tutte le religioni urbane e quindi delle elite delle classi dominanti e la sostituzione cristiana del fine al ritorno, del misticismo soteriologico alla pietas rustica, dunque una religione urbana, come schema e infinitamente più capace di accogliere il modello di Cristo che qualsiasi religione contadina. Il consumismo e la proliferazione dell'industria terziaria ha distrutto in Italia il mondo campestre e sta distruggendo in tutto il mondo il futuro dell'agricoltura e anch'esso industriale. Non ci saranno dunque più preti o, se ci saranno, saranno idealmente nati in città. Ma questi preti nati in città evidentemente non vorranno in alcun modo saperne di stare insieme a poliziotti e militari, a burocrati o a grandi industriali. Infatti, essi non potranno che essere degli uomini colti, formatisi in un mondo che anziché avere alle spalle adone e proserpina si fonda sui grandi testi della cultura moderna. Se vuole sopravvivere in quanto Chiesa, la Chiesa non può dunque che abbandonare il potere e abbracciare quella cultura, da lei sempre odiata, che è per sua stessa natura libera, anti-autoritaria, in continuo divenire contraddittoria, collettiva, scandalosa. E poi, infine, è proprio detto che la Chiesa debba coincidere col Vaticano. Se facendo una donazione della grande scenografia folcloristica dell'attuale sede vaticana allo Stato italiano e regalando il ciarpame folcloristico di stole e gabbane, di flabelli e sedie gestatorie agli operai di Cinecittà, il Papa andasse a sistemarsi in clergyman con i suoi collaboratori in qualche scantinato di Tormarancio del Tuscolano, non lontano dalle catecombe di San Damiano o Santa Priscilla, la Chiesa cesserebbe forse di essere Chiesa?